buongiorno a te io sono maria gabriella crisci e sono qui presso l'azienda candela amica che produce candele con amore e calore insieme stiamo portando avanti questo progetto con gli arcangeli in particolare si tratta di nove grandi arcangeli che in questo processo molto naturale di avvicinamento alla terra hanno scelto di prendere la forma di altrettante candele per esempio questa candela è dedicata a un arcangelo che si chiama zarfkel il suo nome non è molto facile da pronunciare eppure ci invita ad ascoltare la nostra creatività a essere co creatori della nostra vita il nomino uno che senz'altro conoscerai meglio che è l'arcangelo michael l'arcangelo michele il guerriero di dio chi è come dio ci domanda e la domanda che pone a noi è sei consapevole di cosa sei venuto a fare qual è il progetto che vuoi veramente portare avanti nella tua vita se ti senti attratto da un arcangelo in particolare o da alcuni di questi potrai scegliere la candela all'interno della quale troverai un libricino che contiene un messaggio dall'arcangelo e forse proprio ciò che in questo momento della tua vita ti può essere utile e per questo io ti ringrazio e ti saluto